C'è anche una società di Trezzano, la Ai Latis Carl, coinvolta nell'inchiesta che ha scoperto un sistema di evasione fiscale per quasi 300 milioni di euro e che ha aperto le porte del carcere a 10 persone. La Ai Latis Carl di Trezzano è finita nelle carte dell'inchiesta insieme a due consorzi attivi nel settore della logistica e del facchinaggio, il consorzio SAC e il consorzio Progresso Logistico, entrambi di Lainate, sempre nella provincia ovest di Milano. Dieci persone sono finite in carcere, dodici agli arresti domiciliari in seguito all'indagine su un sistema criminale che opera da circa 20 anni, questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha rilevato un sistema di evasione fiscale attraverso la sostituzione delle società pilotate verso il fallimento con nuove società costituite ad hoc, a cui si aggiungeva l'emissione e l'utilizzo di false fatture per operazioni ovviamente inesistenti. Dopo pochi anni, infatti, le cop venivano svuotate di ogni patrimonio e abbandonate all'insolvenza. Nuovi soggetti, riconducibili alle stesse persone delle cop, prendevano il loro posto perpetuando il meccanismo illecito. I finanzieri stanno ora perquisendo ed eseguendo sequestri preventivi per oltre 292 milioni di euro che costituiscono il profitto dei reati di bancarotta e delle violazioni fiscali contestate.